salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo oggi facciamo un volo panoramico in mezzo a questo splendido verde che è la valsassina e più precisamente pasturo ragazzi questo posto a me piace un sacco oggi ho fatto altri video però oggi ragazzi c'è una giornata bellissima un po di vento penso che lo sentiate anche dal microfono ma dei colori verbi veramente spettacolari facciamo un volo doppio absanzino e paro talafi quindi un po di immagini saranno dell'absanzino e un po del paro talafi non è un video confronto è solo un video ultimo perché li ho usati entrambi quindi adesso ragazzi preparo tutto ed eccogliamo con entrambi i droni ciao 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 ok ragazzi questo volo doppio è finito avete visto che il paesaggio di colori di verde fantastici che ci sono qua a pasturo in valsassina non potevo che far volare due droni in una location del genere quindi oggi hanno volato zino e danafi e veramente ragazzi tanta roba entrambi due fasce di droni diversi due categorie diversi ma però entrambi belli da guidare spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale telecom offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube e ci vediamo ad immagini video voli poteste ciao ciao